Ciao a tutti dal vostro caro Max RLANDOM Ragazzi oggi siamo qui in un video veramente molto speciale Infatti questo è lo speciale dei 50.000 iscritti Adesso tutti voi vi starete aspettando un video come tutti gli altri youtuber Challenge, scherzi e cose varie Io invece vi porterò a vedere un qualcosa che non avete mai visto prima Vi svelerò il segreto di tutti gli youtubers Ho deciso di mostrarvi questa cosa Proprio perché il mio canale ha avuto un grandissimo boom Che da 10.000 iscritti sono passato ai 50.000 in pochissimo tempo Molti di voi mi accusavano di aver comprato gli iscritti Oppure che qualcuno mi aveva bustato E invece no Ok, seguitemi Eccoci qua ragazzi Se non mi sbaglio Devo andare a snus Se cado qui mi sa che devo chiudere il canale Manca poco Siamo quasi arrivati Questo è il condoio degli youtubers Ah, qua c'è il caro ciccio Sappi che il mio obiettivo è fare più spettatori di day live Max Max, siamo arrivati a 50.000 iscritti Per presto scendi giù Dobbiamo festeggiare E vai imperato Bolona Siamo già a 50.000 Max, hai visto quanti spizzoni stiamo facendo? Sono orgoglioso del vostro lavoro Poi ci dividiamo la monetizzazione Eh sì, di questo passo arriveremo presto ai 100.000 Ragazzi, adesso che avete scoperto la verità sul successo di molti youtuber Mi raccomando, iscrivetevi in massa E non facciamo fare il tuo lavoro alle belle topolone Max, adesso smamma Lasciami solo con le mie belle topolone Insaziabile Grazie a tutti Ragazzi, adesso che sapete Eh, sapete Ragazzi, adesso che sapete il successo sul mo... Non ti lascio sola Bella topolona Mamma mia quanto sei buona Io canto a squarciagola Per la mia topolona Vieni qui, rispondi ora La 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti